C'è del lavoro per Carlo Longhi, eh? Largo, Riccardo! Fede, posizione, Fede! Davanti l'uomo, Simone! Basta! Giorno! Sali, vai lì! Cristiano! Dai, vai lì! Dai, vai lì che fai gol! Dai, vai lì! Dai, vai lì! Dai, vai lì! Dai, vai lì! Guarda bene, guarda bene, guarda bene. Eeeh! 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 Salta! 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 Aspetta Giovanni! Vai Alex, vai Alex! Bravo Paolo! Va benissimo! Aspetta! Vale, vale! Bravo, vai Alex! Vale! Vale, non scivolare sempre! Andrea, la metti bene! Eeeh! Andrea! 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 Buongiorno! 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 Bravo, D'angeli! Fuori,maker! Fuori! Uscuva! non rischiare Cristian non entrare, non entrare, non entrare, non entrare, portalo fuori bravo Cristian, Cristian, non entrare, portalo fuori, portalo di letto che non è pericoloso lì ricominciamo a giocare là in mezzo, forza bravo Paolo, bravo Paolo, non fa niente lasciamo fuori ordinati stiamo facendo confusione stai largo Paolo bravo Paolo largo Pede, largo Pede dai dai questa palla Cristian bravo Dennis stiamo su, pressamoli, pressamoli è tua Paolo chiudi Roberto forza bravo Simone, bene guarda Ligno guarda Ligno ma stassi stovà forza la in mezzo dai giochiamo sto pallone Lore vediamo per l'incontro a fare la sfonda dai giochiamo sta palla Lore stiamo facendo tanta confusione Gira te! Vai! Vieni bene, vieni tanto! Riccardo! Bravo, Rappi! Ricciardo Grande Roby Ciao Robè Roby Dai male Ligno, stai largo Paolo, entra largo, Paolo, secondo Ligno, stai largo, Paolo, stai largo, Paolo, stai largo, Paolo, stai largo Paolo, stai largo, Paolo, stai luego, stai largo, paolo, stai largo, paolo, stai largo Grazie Grazie e stanno aperte 5 cento Paolo, gli mettiamo il pallone agli avversari gli tagli la palla, Paolo